Nicolò Zanellato, prima dell'allenamento pomeridiano si è a disposizione dei giornalisti. Iniziamo con due domande. La prima è vero che la classifica è preoccupante, ma questa è una squadra che ha dimostrato, soprattutto lunedì, di poter fare un filotto di risultati positivi. Quanto ci credete? Noi ci crediamo pienamente, altrimenti non faremo prestazioni come quella di lunedì, dove sicuramente siamo stati sfortunati, ma per il resto abbiamo seguito bene i dettagli, la preparazione e la strategia del mister. Penso che si è visto un crotone propositivo, attento, che ha rischiato poco e niente. Noi ci crediamo pienamente e continueremo così anche per le prossime partite. La società sta facendo il proprio dovere, chiamando a raccolto i tifosi. Quanto è importante averli vicini in questo momento? È sempre importante, soprattutto per una piazza come Crotone, che ha avuto storicamente un tifo che invidiano da tutte le parti. Quindi avere una spinta in più, i tifosi a proprio favore è sempre una cosa positiva, soprattutto magari in un momento un po' delicato come questo. Puntorno a Zanellato, arriva la SPAL, riduce dalla sconfitta di ieri con il Lecce. Cosa servirà a mettere in campo per cercare di conquistare finalmente una vittoria? Io penso che più di tutto servirà autostima, perché è vero che siamo in un periodo un po' negativo, però non dobbiamo dimenticarci che siamo giocatori forti, giocatori capaci. Non dobbiamo perdere l'entusiasmo e la capacità di credere alle proprie qualità. Quindi io penso che servirà a quello soprattutto. Insieme a quegli elementi imprescindibili come l'attenzione, la personalità, la cattiveria. Penso che insieme, anche come gruppo, solo uniti, possiamo uscire fuori da un momento come questo, ma credo che faremo sicuramente una partita e anche le prossime partite con lo spirito giusto. Quindi da questo punto di vista sono molto molto sereno. A Terni è arrivata la terza sconfitta consecutiva. Come la state vivendo all'interno dello spogliatoio? L'analisi che fate tra di voi qual è? In particolare la partita con la Ternana non abbiamo ancora parlato, se non di sfuggita dopo la partita. Come avete visto tutti, il Crotone non meritava di perdere, assolutamente. Quindi da quel punto di vista siamo più sereni, ma allo stesso tempo più arrabbiati, perché quando perdi meritatamente una partita e non raggiungi un determinato obiettivo e lo meriti ti dà ancora più fastidio. Però se abbiamo perso comunque c'è qualcosa che non è andato bene, quindi cercheremo di vedere anche gli errori che abbiamo commesso per evitare di ripeterli in futuro. Vorrei fare un primo passo indietro. Quando sei entrato contro il Vicenza, credo di aver visto una delle tue rarissime entrate in scivolata nella tua carriera, visto che da professionista grossomodo l'hai giocata quasi tutta qua a Crotone. Quanto importanti i segnali da parte di voi senatori? Proprio dal punto di vista non è la rabbia, è proprio quella feroce agonistica che è indispensabile in questo campionato. Sì, sicuramente come dici tu, dare uno scossone con questi gesti tecnici, come tu dici, la scivolata è importante, sicuramente è imprescindibile. Penso che però i modi per far vedere la cattiveria e la grinta siano anche altri, cioè uno che non sbaglia mai un passaggio, uno che fa un passaggio giusto, forte al compagno, che si fa trovare sempre in posizione corretta, allo stesso tempo ha la stessa valenza e l'importanza di una scivolata, anche perché se eviti di perdere la palla eviti di farla scivolata per riconquistarla. Però comunque diciamo che in questi momenti è necessario anche fare le cose un po' più sporche, dove magari anche per sfortuna non tutto viene bene, quindi sicuramente mettere in campo anche la cazzimma, come si definisce, e anche lo spirito battagliero è sicuramente importante. Invece dal punto di vista tattico, mister Marino, proprio a Terni, vi ha dato un'altra strada, no, quello è la duttilità, no, non si capisce bene 3-4, non è quello il problema, non è i numeri. Quanto il centrocampo, proprio, e uno come te, la duttilità proprio dell'aiuto al compagno vicino al di là di i numeri è altrettanto fondamentale? Sì, credo sia importantissimo, insomma, saper giocare in più zone del campo, soprattutto in una partita può capitare che ti trovi in una zona che non è di tua competenza, però se sei un giocatore voluto, intelligente, sai gestire lo spazio, insomma, l'avversario allo stesso modo. Il mister è una persona molto competente, quindi credo che per lui, come per noi, non faccia differenza giocare a 3-4, ma vuole vedere giocatori intelligenti che interpretano, appunto, lo spartito, magari diverso, magari uguale per più partite, nel modo corretto. Se un giocatore non è intelligente, non riesce, diciamo, a mettere in pratica i dettami del mister, fa fatica, però in questa squadra ci sono tutti ragazzi veramente bravi, e quindi cambia veramente poco per noi.